E passarella, via! Ale! Ale! Hop! Ale! Hop! E sì! E sì! Oh! Ale! Bene! Sì! E sì! Ma sì, esageriamo! Esageriamo! Brasil! 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 Allegria! Gioia! Freschezza! Perché no? E vai! E vai! Al pedocin di Trieste, solo gioia! 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 Allegria! Grazie! Grazie! Fantastico! Bella gioia in Brasile evidentemente! Sono tutti così sempre allegri e spassionati in Brasile? Sì! Grazie! Tutti muy allegri in Brasile? Tutti allegri! Ecco l'ho detto, avete visto? C'è anche una certa padronanza! Si dà! Come? Principalmente la mia si dà! Che è giusto! Dubahia! Ah Dubahia! Dubahia! Ecco, Dubahia! Ho capito! Io non parlo manco portoghese! Comunque, va bene, in un modo o nell'altro a gesti ci capiremo! Allora, scuola superior, titolo d'estudio? Sì! Comunque, va bene, in un modo o nell'altro a gesti ci capiremo! Allora, come si dice professione? Profissione? Profissione? Come falcione! Bene! Infermeireita? Infermeira! 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 Sì! Sarta! Sì, io sono, io sono infermiera, faccio assistenza a una signora, a Kini, treste! Sì, ma non capisco, cioè infermiera sarta, cioè incomincia già a cucire i malati? No! No, io sono sarta anche! Ah, ecco, no! Ebbè, bisogna capire queste cose, sì! Allora, poi, lingue parlate, portughesi, ho detto bene però, eh, quasi, no! Perfetto, grazie, infatti volevo che dicesse questo, e cosa, cosa, ha qualche sogno, ha qualcosa in particolare, qualche hobby che le piace frequentare, non so, sport, bailo, canto? Sì, o bailo solo, canto no! Nazionale di calcio brasiliana, che sono così forti? No! Cosa io non capisco! Calcio, eh... Ballon, calzito, come se disse, eh... Bene, bene, va bene, va bene lo stesso! Ecco, dimostro la mia padronanza nelle lingue. Allora, ballare però abbiamo già visto che sa, sa ballare. E cantare? No, cantare no, e beh, sì! Io non... Non ho bene per cantare! Però, ballare abbiamo già visto che balla molto bene, quindi un accenno, non so, qualcosina di cantato, di brasiliano non so cosa si può fare non mi ricordo adesso una musica brasiliana nel momento non mi ricordo allora balla chi è lei? la figlia tutto bene, tutto a posto benzerio, bene tutto a posto io sono Andro è bella figlia a me mi gustava con la sabrosura con la sabrosura muove la cintura a me mi gustava con la sabrosura con la sabrosura muove la cintura a me mi gustava fantastico, grazie io faccio veramente i complimenti alla signora gran bella figlia perfetto scherzo perfetta anche la mamma se la mamma non fosse bella manco la figlia verrebbe così carina grazie ci rivediamo più tardi naturalmente per la versione